Giornate di sopralluoghi tra gli organizzatori di RCS Sport e le autorità locali per il prossimo passaggio del Giro d'Italia sulle strade del VCO. La Corsa Rosa, che sabato 20 maggio, in occasione della quattordicesima tappa da Sierra a Cassano Magnago, di 193 chilometri successivo al tappone del giorno prima, con arrivo a Cranmontana dopo aver scalato il Gran San Bernardo e la Croix de Coeur, valicherà il passo del Sempione d'Abriga e toccherà la provincia due anni dopo la partenza da Verbagna del Giro 2021, quello dei grandi festeggiamenti per Filippo Ganna a casa sua. Dopo aver verificato le strade, valutato percorsi e tutto ciò che era necessario, gli organizzatori dello staff tecnico diretto da Mauro Vegni e Stefano Allocchio hanno definito che la Corsa, terminata la discesa del Sempione, Gran Premio della Montagna di prima categoria in quel di Crevola Dossola, raggiungerà Domodossola e Villa Dossola, sede del primo traguardo volante di giornata, per proseguire poi verso Piedimulera, Vogogna, Premosello Chiovenda e Mergozzo, da dove saranno raggiunte le porte di Verbagna. Da Fondotoce poi si costeggerà il Lago Maggiore del Golfo Borromeo, attraverso Feriolo, Baveno e Stresa, dove davanti ai grandi alberghi sarà posto il secondo traguardo volante di Frazione, poi Belgirate, Lesa ed Arona. A Sesto Calende la Corsa entrerà nel Varesotto, toccando Vergiate, Albizzate, Carnago e per poi terminare a Cassano-Magnago. Una tappa che sarebbe sbagliato definire di trasferimento, meglio definirla una giornata per una possibile fuga da lontano in vista delle grandi montagne. Sarà decisamente interessante il campo dei partenti e gli appassionati del nostro territorio avranno da che strabuzzare gli occhi. Tornerà al Girogan, ci saranno l'irrigato Remco Evenepol, il trevolte vincitore della Vuelta di Spagna Primoz Roglic, Geraint Thomas e Tejo Gaganhardt, scortati dal Vignonese, poi Joao Almeida, Thibaut Pinot, Alexander Vlasov, Warren Barghil, Giulio Ciccone, Rigoberto Uran, Damiano Caruso e tanti altri, senza dimenticare i cacciatori di giornata, come il tainese, che abita molto vicino a noi, Alessandro Covi, oppure i velocisti, come Elia Viviani, Mark Cavendish e Fernando Gaviria, che dovrebbero essere al Via. Il Giro, che torna nel VCO, prenderà il Via con la crono della costa dei Trabocchi sabato 6 maggio.